Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica in diretta tra il dire e il fare. Oggi parleremo di bullismo e cyberbullismo. Un caso al giorno di bullismo e cyberbullismo sono stati segnalati, pensati a Telefono Azzurro, durante l'anno scolastico scorso. Parleremo di questi fenomeni che purtroppo sono di grande attualità con l'avvocato Ennio Napolillo. È nostra intenzione infatti fornirvi informazioni utili su questi temi. Chi vuol farlo può intervenire in diretta chiamandoci allo 0825 31399. Essendo quello di oggi un tema particolarmente delicato, chi potrà intervenire anche in forma anonima. Come vi dicevo in mia compagnia c'è l'avvocato Ennio Napolillo che ringrazio innanzitutto per aver accettato l'invito avvocato. E poi comincerei subito. Esiste una stretta correlazione, anche le cronache recenti ce lo sottolineano, tra la scuola ed il cyberbullismo. I tribunali a questo proposito stanno diventando anche più severi nel riconoscere le responsabilità di insegnanti, presidi e genitori. Questo cosa vuol dire, avvocato? Come ogni problema che riguarda un minorenne è chiaro che viene coinvolta sotto un profilo giuridico la responsabilità di chi ha la responsabilità, di chi ha una posizione di garanzia, di cura nei confronti del minore. Quindi se si tratta di reati, di condotte, anche se non costituenti reati, da cui deriva un obbligo risarcitorio, è chiaro che viene coinvolta la famiglia o se si verificano all'interno di un istituto scolastico saranno chiamati a rispondere anche i responsabili dell'istituto. Ed è anche in quella direzione che si possono sviluppare eventuali azioni legali. Dicevo all'inizio un caso al giorno di bullismo e cyberbullismo, un dato decisamente preoccupante che rappresenta però solo la punta dell'iceberg rispetto alla vastità di questo fenomeno. In totale i casi gestiti sono 270 ed hanno richiesto un totale di 619 consulente. Ci si muove verso un'altra direzione e a prescindere dall'esito del disegno di legge che ricordiamo è ancora in esame, soprattutto sul fronte civile che si combatte la battaglia contro questo fenomeno. Innanzitutto è vero questo dato? Ma se si considera il disegno di legge di cui parlavamo, quello è orientato sia sotto il profilo civilistico, ma soprattutto in ambito penalistico si cerca di trovare una soluzione al problema. Non so se la sola repressione possa essere la soluzione, dubito che possa essere la soluzione, però come ogni volta che si verifica un fatto da cui deriva un danno, si può agire in sede penale, come si può agire anche in sede civile. Per la verità è difficile stabilire quale sia la strada preferibile, sia sotto l'aspetto della tempistica, che sotto l'aspetto dell'efficacia, oltre che della difficoltà di provare quello che è accaduto. Il disegno di legge certamente si occupa sia dell'introduzione di una fattispecie penale, sia della predisposizione di strumenti che servono a sensibilizzare i possibili autori di questi fatti, che non necessariamente costituiscono reato immediatamente, possono sfociare in un reato, ma in ogni caso le soluzioni sarebbero molteplici. Bisogna poi scegliere quella che si ritiene essere più efficace. Attualmente infatti il cyberbullismo non è reato, almeno per il momento. Identificare gli autori è complesso e per la diffamazione online, ad esempio, sono gli stessi internet service a non collaborare. La strada del processo penale dunque risulta sbarrata in questo modo? No, non risulta sbarrata. Proprio perché oggi non abbiamo una fattispecie di reato di cyberbullismo, questo non significa che le condotte che rientrerebbero in una fattispecie astratta di cyberbullismo, come quella che è contemplata dal disegno di legge 1261, la condotta che viene prefigurata in quella fattispecie, anche se adesso non è ancora di per sé un reato, ciò non toglie che già adesso, in assenza di quella normativa, quella stessa condotta integri altre fattispecie di reato. Se noi prendiamo l'esempio di un ragazzino vittima di quello che definiamo cyberbullismo, sono tanti i modi in cui si può realizzare questa condotta. Può essere la pubblicazione di un'immagine, di un contenuto, di un filmato, può essere un'email che viene mandata al destinatario per offenderlo, per ingiuriarlo. Da questo poi deriva una sensazione di inadeguatezza che porta all'isolamento, porta a casi clamorosi come quello di Amanda Todd. Queste sono tutte fattispecie che già di per sé sono reati e possono essere denunciati e puniti. Nel caso della pubblicazione di un filmato sicuramente ci sarà diffamazione e la diffamazione online è una forma di diffamazione aggravata che oggi è punita dal nostro ordinamento. Si può ottenere la punizione del responsabile, si può ottenere l'esarcimento del danno, si può ottenere anche l'oscuramento del contenuto, dell'immagine, del filmato. Certo, i tempi non sono velocissimi e anche per questo si può scegliere la strada. Ci sono diverse strade per ottenere la rimozione di un certo contenuto. Alcuni gestori, alcuni internet provider già prevedono la possibilità di recepire un'eventuale lamentela e richiesta di oscuramento e di rimozione del contenuto. La legge di cui parlavamo, il disegno di legge di cui parlavamo, prevede che tutti gli internet provider si dotino in breve tempo, in brevissimo tempo, della possibilità di recepire queste istanze per garantire a chi subisce eventualmente un reato o una condotta di questo tipo di poter rivolgere in modo consapevole subito l'istanza alla persona giusta, nella giusta direzione per ottenere la rimozione di quel contenuto, che può essere ottenuta anche attraverso lo strumento del procedimento penale o con lo strumento del giudizio civile, con un'azione di, come ha fatto per esempio nel famoso caso di Tiziana Cantone, della povera Tiziana Cantone, quello è stato ottenuto attraverso un'azione civile, un'azione di, un ricorso d'urgenza oppure si può chiedere l'intervento del garante della privacy, gli strumenti sono tanti. Comunque, le condotte che rientreranno nella figura di cyberbullismo quando sarà promulgata questa legge, già oggi integrano diverse figure di reato per cui si può chiedere la punizione in ambito penale. Il cyberbullismo non è riconosciuto ancora come reato in senso stretto del termine. Mi chiedo, Avvocato, e soprattutto le chiedo, può essere questo uno dei motivi per il quale le vittime sempre più spesso purtroppo tendono a nascondere di essere vittime di questo fenomeno? Come a voler dire tanto non gli faranno nulla? No, io non credo che questo sia il problema. Io non credo che la mera prospettazione di una punizione possa funzionare da deterrente. altrimenti non avremo più casi di cosiddetto stalking. L'articolo 612 bis rubricato atti persecutori che punisce il cosiddetto stalking da quando è stato introdotto, ovviamente ha portato dei benefici alle persone offese che hanno una tutela prevista da un articolo dedicato a quella condotta. Anche prima era punibile sotto altre forme in modo meno severo. Ma il fatto che oggi esista una fattispecie di stalking non ha affatto cessare le condotte. Il problema del cyberbullismo è un problema, a mio avviso, che non può essere risolto con la mera repressione. Certamente serve la repressione, serve il deterrente, serve che chi lo pone in essere abbia tema che arrivi a una punizione anche severa. Ma siccome stiamo parlando di reati o di condotte che per lo più vengono posti in essere anche da maggiorenni, ma soprattutto da minorenni, io credo che sia un problema soprattutto di sensibilizzazione. Io non so se, non sono convinto che i ragazzini che pongono in essere certe condotte siano consapevoli delle reali conseguenze che possono determinare. E allora servirebbero, non è il legislatore né la magistratura che può risolvere un problema come questo. Sono altre le istituzioni che hanno un compito così alto, quello cioè di educare o forse di rieducare i giovani a non fare certe cose, la famiglia, la scuola. Parliamo di fenomeni molto gravi perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata. Quindi l'appello a voi che ci seguite da casa è quello di non dare a nessuno la possibilità di rovinarvi la vita, di costringervi a cambiare le vostre abitudini quotidiane. Vi ricordo ancora una volta che c'è la possibilità di intervenire in diretta per rivolgere qualsiasi domanda all'Avvocato Napolillo chiamandolo 0825 31 399. Vi diamo la possibilità per oggi di tenere anche l'anonimato perché come dicevo ad inizio di trasmissione ci rendiamo conto che l'argomento che stiamo affrontando è particolarmente delicato. Avvocato, quali sono i comportamenti illeciti più diffusi su internet? Sotto questo profilo senz'altro la divulgazione di contenuti che sono quantomeno imbarazzanti per la persona che ne subisce la diffusione. Attraverso questa diffusione si possono realizzare diversi reati, si possono perseguire diversi obiettivi chiaramente illeciti. Si può pubblicare un filmato o una fotografia per ottenere dalla persona che è ritratta in quel contenuto qualcosa indietro, un vantaggio, quello che viene definito dal legislatore un giusto profitto. Io pubblico un filmato perché voglio che tu mi dia del denaro o faccia qualcosa per me affinché io rimuova quel contenuto di cui tu temi la divulgazione. Allora per questo, quando sarà introdotto il reato di cyberbullismo, ci sarà sicuramente questa punizione, ma la condotta che ho appena descritto continuerà a integrare il reato di estorsione che già oggi può e deve essere denunciato. Poi la diffamazione senz'altro, scrivere, pubblicare, esternare opinioni lesive dell'onore altrui, magari con notizie false. Già dire qualcosa contro una persona in modo incontinente, cioè senza quel canone di moderazione del linguaggio, già è un reato. Poi aggiungere anche una notizia falsa complica le cose e stiamo sempre nell'ambito della diffamazione. Quindi io ritengo che sicuramente i più diffusi siano la pubblicazione di contenuti che siano immagini o filmati e la diffusione di notizie false o offensive. Il sistema giudizio italiano è pronto a gestire casi che arrivano dal mondo internet? Ma sì, io mi auguro che vengano potenziati i mezzi di cui dispone la polizia postale perché è quello l'organo delle forze dell'ordine che si occupa di indagini di questo tipo. Stiamo parlando di personale formato, esperto, che però spesso non ha i mezzi con cui, avendo i quali si potrebbe risalire all'identità dell'autore di un certo fatto in tempi più brevi. Si dovrebbe evitare che la polizia postale vada incontro a una serie di rifiuti opposti non tanto da autorità straniere estere quanto da gestori che risiedono all'estero. Spesso Facebook, la sede di Palo Alto in California, risponde se non offre collaborazione la polizia postale più di tanto non può farlo, ma quando ci si trova di fronte a un ostacolo del genere diventa impossibile poi risalire all'identità pur essendo in grado teoricamente di arrivare all'identificazione di quella persona perché una cosa è certa, su internet si possono fare tante cose, si può mantenere l'anonimato ma tutto lascia tracce, quindi è praticamente impossibile farla franca. Certo, si possono usare degli espedienti, si possono usare postazioni internet pubbliche, allora sarà ancora più difficile. Spesso vengono commessi i dati di questo tipo da PC che stanno presso un istituto scolastico e allora bisognerebbe fare attenzione a chi accede a quei computer, istituire dei registri di modo che ognuno, qualunque fruitore di quella postazione computer, lasci una traccia, registri la propria presenza di modo che si possa attribuire ciò che è stato fatto in quel determinato momento a quella persona. Lo Stato italiano bisognerebbe potenziare i mezzi della Polizia Postale e rendere più fluida la procedura per arrivare al risultato che la Polizia Postale è in grado di perseguire. Anche in questo caso c'è da fare i conti con la burocrazia, avvocato praticamente. Esattamente, spesso diventa un problema, sì. Spesso diventa un problema, infatti lei ad inizio ha citato il caso del cantone, quei video che sono purtroppo costati la vita di una giovane ragazza sono ancora in circolazione, sono ancora in grado. Sì, si può ottenere, come aveva ottenuto la povera Tiziana, la rimozione, l'oscuramento, ma è virtualmente impossibile ottenere che, basta scaricarlo, allora si può ottenere che YouTube, che Facebook, che quel certo motore di ricerca non dia come risultato quel video e non sia possibile vederlo attraverso quel motore di ricerca, ma se qualcuno ha scaricato quel filmato ne resterà in possesso per sempre. È impossibile rimuoverlo dal mondo di Internet, che è un mondo infinito. Si può ottenere l'oscuramento, si può ottenere, ci si può rivolgere al garante della privacy e si può ottenere anche in tempi più o meno brevi, ma l'eliminazione definitiva di quel contenuto, allora bisognerà punire chi faccia uso di quel contenuto. Come diceva in quel filmato che scosse la coscienza di tanti, di tutti, me compreso, di quella ragazza canadese, Amanda Todd, quella ragazza che poi si suicidò a 15 anni, lei era proprio vittima, quello era proprio l'archetipo del cyberbullismo. Lei, in una delle frasi che pubblicò in quel famoso filmato, disse, non potei ottenere di riavere quella foto indietro. Si parla di una fotografia in cui lei mostrava ingenuamente il seno, lei è costata la vita la pubblicazione di quella fotografia, lei diceva, ed è vera, una tristissima verità, io non sono stata in grado di avere indietro quella foto, perché è impossibile. Si può ottenere che non venga più pubblicata, ma ottenere che venga cancellata definitivamente è impossibile. Quindi forse sarebbe giunto il momento che soprattutto la scuola scenda in campo in maniera forte, perché poi bullismo, cyberbullismo, vittime e non solo, sono principalmente gli adolescenti. Non penso di scoprire, come si suol dire, l'acqua calda, basta farsi un giro su internet e si scoprono decine di migliaia di video realizzati addirittura nelle classi. Sì, è un problema che riguarda soprattutto i minorenni, ma non soltanto, ci sono due forme di cyberbullismo, quella appunto tra maggiorenni o tra un maggiorenne e un minorenne e quella tra minorenni. Non so quale sia più preoccupante sotto il profilo proprio sociale. Una cosa è certa che è una condotta spesso possene essere da minorenni e allora, più che punirli, a parte il fatto che se sono, se si hanno meno di 14 anni non sono neanche imputabili, si può applicare una misura di sicurezza. E il telefonino oggi fanno soprattutto loro. Esatto. Chi non ha il telefonino a 11 anni, a 10 anni? E allora bisognerebbe, adesso non vorrei sembrare un moralizzatore, però bisognerebbe spiegare, sono le famiglie che dovranno spiegare quali rischi, innanzitutto per tutelare i propri figli, e per evitare che i propri figli possano creare danno, senza particolare cattivere. Io non credo che gli adolescenti e i preadolescenti siano diventati cattivi. Sono spesso inconsapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Allora, non può essere una legge a cambiare le cose, devono essere le istituzioni, le famiglie e la scuola. A quanto può montare un risarcimento per i cosiddetti sinistri su internet, avvocato? Ma è una categoria ampia e bisognerebbe fare riferimento caso per caso al singolo reato che si verifica. Prima facevo l'esempio di un'estorsione, un'estorsione porterebbe a un risarcimento significativo in termini economici, una diffamazione sicuramente molto di meno. dipende dal tipo di condotta che si subisce e dalla prova del danno che si riesce a portare poi all'attenzione del giudicante. Da poche migliaia di euro a cifre molto considerevoli. Ne ricordarvi ancora una volta il nostro numero per poter intervenire in diretta 0825 31 399 il cyberbullismo quanto è diffuso come fenomeno, avvocato? Lei che magari questo fenomeno appunto lo vede anche da un osservatorio particolare data la sua professione? No, è diffuso, è effettivamente preoccupante. Non più di altre figure di reato, non più del cosiddetto stalking degli atti persecutori, però effettivamente è un fenomeno purtroppo in crescita e questo è il dato allarmante che sia un fenomeno in crescita. Anche perché, come dicevo prima, sono tante le azioni che possono rientrare nel cosiddetto cyberbullismo di cui oggi abbiamo, non abbiamo ancora una definizione, ce l'abbiamo nel disegno di legge ma non è ancora stato promulgato, quindi anche la normativa, il disegno di legge fa una definizione del cyberbullismo, tenta di dare una definizione del cyberbullismo quanto più esaustiva possibile, ma leggendo quel testo ci si rende conto che il legislatore non può fare a meno di usare diversi sinonimi, tenta di disciplinare in modo tastativo una serie di condotte che forse è impossibile riuscire a racchiudere tutte in una norma e allora bisogna sempre capire a che cosa facciamo riferimento, se è una forma di ingiuria che poi prende altre vie, se è una forma di diffamazione, di estorsione, di ricatto, di minaccia, di interferenza illecita nella vita privata altrui, di frode informatica, di sostituzione di persona, sono tante le fatti specie, quindi vista sotto quest'ottica è effettivamente un fenomeno preoccupante perché sono tante le azioni che si possono fare che rientrano nel cyberbullismo. Avvocato, stavo riflettendo durante la nostra chiacchierata su un altro particolare, si è discusso tanto, si continua a discutere e a polemizzare sulle intercettazioni telefoniche, la necessità, l'opportunità di forse di pubblicarle, no, di valutarle, non valutarle e poi per quanto riguarda fenomeni come questo ci sono volute delle tragedie per arrivare per il momento ancora a discutere un disegno di legge. Sì, ma questo è il problema di tutta la legislazione emergenziale, cosiddetta, quando sull'onda emotiva il legislatore leggifera, fa una norma per risolvere un problema che ha destato un particolare sdegno da parte della comunità dell'opinione pubblica, ci si rende conto, ci si è resi conto nel tempo che poi quella norma poteva essere scritta se fosse stata ponderata meglio in un modo più efficace, allora poi sarà corretta o dalla Corte Costituzionale o dallo stesso legislatore con degli interventi successivi. la legislazione d'emergenza non è mai non è mai efficace, non coglie mai nel segno, ma certamente serve qualcosa per arginare questo problema, qualcosa di diverso rispetto alle singole fatti specie di cui abbiamo parlato. È semplice riconoscere una vittima o un carnifice? Eh, effettivamente non è semplice né l'una né l'altra cosa, bisogna superare la ritrosia della vittima a denunciare e a manifestare proprio perché il reato, il fenomeno di cui stiamo parlando oggi tende a creare un senso di imbarazzo nella persona offesa, nella vittima, che lo porta a isolarsi perché lo stigma della della emarginazione che deriva da queste condotte tende a farlo sentire inadeguato e quindi è difficile per lui chiedere aiuto. È difficile, forse meno difficile, risalire all'identità per il discorso che facevamo prima. La polizia postale è in grado di arrivare al singolo computer, al singolo indirizzo IP di ogni macchina, di ogni dispositivo, può arrivare a identificare qualunque, quasi qualunque movimento viene fatto su internet. Anche un messaggio, un sms di testo cancellato. Io consiglio sempre ai miei assistiti quando difendo la persona offesa di conservare tutte le tracce ma anche se fossero cancellate, con questo non voglio dire di cancellarle a cuor leggero, sempre meglio conservarle, ma anche nel caso in cui fossero cancellate la polizia postale è in grado spesso anche di risalire a contenuti cancellati. Ci vorrà più tempo. So benissimo che lei è un avvocato e non un psicologo però secondo lei ci sono dei particolari campanelli d'allarme che un genitore deve cogliere per far venire allo scoperto queste situazioni. Secondo me sì, lo dico per esperienza professionale. Sì, ci sono, non è facile ma il genitore farebbe sempre bene a controllare senza farlo sapere al figlio i dispositivi che usa che siano tablet, telefonini o computer ma da un certo momento in poi quando si cominciano a subire pressioni di questo tipo di episodi di cyberbullismo la persona offesa manifesta un senso di isolamento e allora rifiuto ad aggregarsi a fare parte di contesti sociali in cui si sente di non essere all'altezza quelli possono essere già dei primi segnali e bisognerebbe intervenire immediatamente. non è tanto semplice però si può fare. Tra queste vittime ci sono prevalentemente minori ed adolescenti ma questi sono fenomeni avvocati che colpiscono davvero un po' tutti. Sì, nel caso di cui parlavo prima di Amanda Todd quella era è un episodio in cui il carnefice di Amanda Todd fu identificato da Anonymous un gruppo di hacker quel famoso gruppo di hacker in due giorni ed era un trentenne quello era un caso in cui c'era un maggiorenne che si rivolgeva contro una minorenne ripeto non so se sia più preoccupante che siano i maggiorenni a commettere reati in danno di altri maggiorenni o minorenni o i minorenni fra di loro fatto sta che il mondo di internet è effettivamente è impossibile da controllare servono serve che siano giuste giuste contromisure a proposito di questo il disegno di legge all'intento di rafforzare le funzioni del garante della privacy investito del compito di oscurare entro 24 ore oscurare come sottolineava pure prima l'avvocato i contenuti video e foto ritenuti illeciti la tutela è stata estesa appunto anche ai maggiorenni sì nell'ambito di un procedimento penale si può sempre ottenere l'oscuramento il sequestro tramite oscuramento di un contenuto che sia ritenuto offensivo che sia illecito attraverso il quale si è ottenuta si è si è perpetrata una figura di reato che può essere dall'estorsione alla minaccia all'ingiuria diffamazione l'ingiuria sappiamo che è stata abrogata non è più reato però è prevista una sanzione civile quindi nell'ambito del procedimento penale si può ottenere la rimozione di quel contenuto nell'ambito si può fare un'azione civile un provvedimento d'urgenza il giudice civile ha ovviamente il potere di ordinare l'oscuramento del contenuto e poi ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 l'autorità indipendente che è il garante cosiddetto garante lavorale il garante dei dati personali del trattamento dei dati personali già adesso può si può fare un reclamo al garante della privacy e ottenere la cancellazione la rimozione di un certo contenuto ritenuto sconveniente bisogna chiaramente dimostrare bisogna allegare motivare perché si chiede quel provvedimento il garante della privacy già lo può applicare questo disegno di legge potenzia effettivamente questo strumento innanzitutto prevede che entro 24 ore sia il gestore di internet a rimuovere attraverso la predisposizione anche di un canale di ricepimento dell'istanza quel contenuto e se entro 24 ore non il gestore di internet di quel certo sito non provvede ci si può rivolgere al garante della privacy il quale poi ha altre 48 ore per rimuovere intervenire al posto del gestore e rimuovere il contenuto ma già adesso si può fare solo che i tempi effettivamente non sono quelli di cui parla questo disegno di legge se diventassero davvero 24 o 48 ore sarebbe l'ideale la vittima che si decide a dire basta e quindi denuncia avvocato vogliamo spiegare incontro a che tipo di trafila va senza ovviamente voler scoraggiare nessuno dal farlo però è giusto dire anche qual è poi il percorso successivo alla denuncia sì questa è una domanda particolarmente importante effettivamente la persona offesa pur senza volerla scoraggiare è bene che sappia che non purtroppo va incontro a un procedimento a un'indagine che si apre proprio con con quell'atto di impulso che si dovrà decidere a fare che sia una querela o una denuncia da quel momento si aprono le indagini che non coinvolgeranno la persona offesa poi più di tanto ci sarà poi sempre il suo difensore al suo fianco che la coadiuverà in tutte le attività sarà coinvolta perché probabilmente sarà sentita quasi sicuramente poi dalle forze dell'ordine sul delega del pubblico ministero per chiarire meglio i fatti ma poi si aprirà un procedimento al quale parteciperà se vorrà in forma di parte civile costituita per chiedere i danni nel processo penale altrimenti se non si costituirà parte civile parteciperà sicuramente in qualità di testimone però è bene che la persona offesa sappia che il pubblico ministero le forze dell'ordine il suo difensore sono figure professionali istituzionali che stanno dalla sua parte il processo non deve il procedimento penale di cui il processo è una parte la persona offesa non deve pensare che sia orientata orientato contro di lei ma la tiene come protagonista per tutelarla tantomeno sarà un'esposizione in più per la vittima perché a volte nella mente di chi è vittima c'è anche c'è anche questo si poi si può anche chiedere se fosse questa poi la la ritrosia della persona offesa si può chiedere che si proceda anche a porte chiuse nei casi previsti dal codice di procedura penale si può mantenere comunque una forma di riservatezza meglio affrontare comunque un procedimento con queste difficoltà che non denunciare e arrivare a esiti in fausti come quelli di cui abbiamo parlato hanno più difficoltà secondo lei a denunciare i ragazzini o le ragazzine? ma io probabilmente entrambe per ragioni diverse i ragazzini per quel senso di inadeguatezza di cui parlavamo prima sembra sembra scontato sembra anche un discorso sembra banale sembra facile ma essere additati essere presi in giro anche oggi il cyberbullismo si sviluppa in rete ma è la forma 2.0 di un fenomeno sociale che esiste da sempre che è il bullismo allora nel bullismo che si continua ad attuare si continua a fare devisu di persona si trasferisce in rete quello che si fa di persona che è mettere in soggezione prendere in giro una persona allora il ragazzino ha difficoltà a denunciare perché è come se la denuncia suggellasse definitivamente quello status di diverso che è lo stigma che gli vogliono additare coloro che commettono il reato per le ragazzine spesso diventa più difficile e imbarazzante perché troppo spesso il cyberbullismo in cui sono persone offese le ragazze purtroppo ha uno sfondo in qualche modo sessuale e quindi l'imbarazzo è comprensibile con il cyberbullismo il carnefice forse mi sento di dire parte anche da un altro vantaggio che è lo schermo il nascondersi no dicevo mentre il bullismo come sottolineava a lei è una forma se vogliamo più diretta anzi è così no se vogliamo sì è una delle componenti che rendono preoccupante il cyberbullismo è proprio l'anonimato dietro il quale si nasconde o crede di potersi nascondere impunemente l'autore che determina anche una una specie di cambiamento nella personalità di chi commette il reato perché probabilmente quella stessa persona se non avesse lo schermo magari non lo farebbe non si comporterebbe in quel modo e allora potrebbe addirittura amplificare qualcosa che di di sbagliato c'è nel suo comportamento non dico nella sua nella sua personalità ma sicuramente nel suo modo di fare il cyberbullismo è ancora più preoccupante perché dietro lo schermo si è peggio di quello che si sarebbe nella realtà ma secondo me anche perché spesso non ci si rende conto delle conseguenze di quello che si fa le nuove norme introducono inoltre una definizione di cyberbullismo punito con la reclusione fino a sei anni mi verrebbe da dire finalmente sì non è un caso che il cyberbullismo nel disegno di legge poi si sarà promulgato in questa stessa forma quello che diciamo adesso è valido prevede che il cyberbullismo venga disciplinato nello stesso articolo che disciplina gli atti persecutori lo stalking che è il 612 bis del codice penale è lì che sarà introdotta se sarà promulgato in questa forma il reato di cyberbullismo e prevederà la stessa ammunizione irrogata dal questore chiesta irrogata dal questore che si può chiedere lo stesso ammunimento che si può chiedere al questore in caso di stalking prima di proporre la querela si può chiedere che il questore intervenga con un rimprovero di cui si rilascia un processo verbale e che serve a cercare di dissuadere l'autore del reato dal commettere dal proseguire quella condotta se poi continua e ci sarà una querela essere stati previamente ammoniti integrerà un aggravante cioè questa persona affronterà il processo già con un aggravante e avrà una pena più alta di quella a cui andrebbe incontro se non fosse stato già ammonito è lo stesso paradigma degli atti persecutori dello stalking bene il tempo a nostra disposizione è finito io ringrazio ancora una volta l'avvocato Ennio Napolillo e quanti di voi ci hanno seguito da casa l'appuntamento e al prossimo venerdì buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti